La rivalità e la vanagloria sono due tarli che mangiano la consistenza della Chiesa, la rendono debole. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'Omelia matutina a Santa Marta, invitando tutti ad agire con spirito di umiltà e concordia e rifiutando l'abitudine dell'utilitarismo. E quante volte nelle istituzioni nostre, nella Chiesa, nelle parrocchie per esempio, nei collegi, troviamo questo, la rivalità, il farsi vedere, la vanagloria. Si vede che sono due tarli che mangiano la consistenza della Chiesa, la rendono debole. La rivalità e la vanagloria vanno contro questa armonia, questa concordia. Invece delle rivalità e la vanagloria cosa consigli a Paolo? Ma ciascuno di voi con tutta umiltà. Cosa deve fare con umiltà? Consideri gli altri superiori a sé stesso. Lui sentiva questo, eh? Lui si califica non degno di essere chiamato Apostolo, l'ultimo. Anche fortemente si umilia lì. Questo era un sentimento di lui, pensare che gli altri erano superiori a lui. Grazie. Grazie. Grazie a tutti